Diaframma è da 40 anni una realtà di riferimento nel mondo delle produzioni internazionali. In pratica, tante delle campagne che vedete in televisione sono prodotte qui. Abbiamo deciso di offrire questo know-how a tutti coloro che vogliono fare questo lavoro. Io ho sempre lavorato su set indipendenti o professionali di Serie A e ho trovato sempre e comunque dei ragazzi non pronti a stare sul set. Al che mi sono detto, basta, è l'ora di fare una scuola vera. L'idea alla base di Diaframma Film Academy è quella di formare persone che, sì, hanno una conoscenza teorica, ma soprattutto tecnica. E la Diaframma Film Academy nasce proprio su questa idea, formare persone che siano pronte per stare sul set, per lavorare. È per questo che abbiamo creato una squadra di professori che non solo nella vita insegnano, ma lavorano ogni giorno sul set e la loro esperienza è tale da poterla trasmettere ai ragazzi. Parallelamente al mio lavoro di direttore della fotografia insegno questo mestiere da più di 10 anni. Farlo qui alla Diaframma Film Academy dà molta soddisfazione perché non c'è limite a quello che posso insegnare. Qui ho accesso a tutte le tecnologie più recenti, da Alexa, Mini LF, Red Weapon, Gemini, Reparto Luci, Astera e Skypanel. E più che altro qui è presente uno dei Bolt che ci sono in Italia. I ragazzi all'inizio della loro carriera si misureranno con molto meno di tutto questo. Ma è importante che nel loro momento formativo si confrontino con tutto quello che c'è a disposizione sul set oggi. Io a Diaframma ho fatto un tirocinio che giorno dopo giorno sul set mi ha permesso di imparare delle cose che sui libri non avrei mai potuto vedere, di toccare con mano e di poter utilizzare degli strumenti che sono molto più validi rispetto a un insegnamento teorico. La cosa che maggiormente è importante in un corso è il poter imparare ad utilizzare le cose che ci vengono insegnate. Io sono l'esempio di come la formazione in diaframma in questo studio possa prepararti al lavoro. Entrare nei nostri studios è entrare in un mondo magico. Io lo so, ci vediamo tutti i giorni. E credo che se qualcuno ha questa passione, questo sia il posto giusto. Grazie. 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 Grazie.